Pago e Serena e Nardu sono indubbiamente due dei protagonisti dell'ultima edizione di Tentation Island VIP condotta da Alessia Marcuzzi. Nell'ultimo fallo di confronto si sono detti addio dopo una relazione durata quasi sette anni. Ora in un'intervista a Kip parlano per la prima volta dopo la rottura. L'ex dronista Sarda ha confessato sono in cura da una psicologa. Io e Pago da due anni non stavamo bene, ho sempre avuto paura di ferirlo, ma ho sbagliato. Per tutelare lui abbiamo distrutto tutto, non mi vergogno a dire che sono in cura. Anche il cantante sta soffrendo, l'avrei sposata, dice volevo un figlio, mi manca tanto, tutto mi manca lei, ha un fascino incredibile, mi manca nel quotidiano, mi manca il suo abbraccio, fa molto male.